Possiamo parlare di Punto di non ritorno. Event Horizon è un film del 1997 di Paul Anderson, in italiano lo sapete già, è Punto di non ritorno, è Paul Anderson, è il regista di chicche, tra grasse virgolette, perché non sono chicche, il regista di Mortal Kombat e la saga di Resident Evil, quella che è iniziata e penso continuata sempre con Mila Jovovich, una saga che è molto discutibile anche quella. Che cos'ha però Paul Anderson? Paul Anderson è un regista che comunque secondo me ha una grande capacità di fare inquadrature, movimenti di macchina molto stilosi e suggestivi e non assolutamente a caso, come invece accade per altri registi su questo genere, che ogni tanto strafanno. Lui è abbastanza tamarro in questo, ma è un tamarro che sa cosa sta facendo, quando ha fatto questo film tra l'altro era molto giovane e veniva dal successo di Shopping, che è un film precedente, che gli ha permesso comunque di avere carta bianca da parte dei produttori per la scelta del cast e un sacco di cose, però è vero anche, questo l'ho scoperto chiaramente documentandomi, perché io il film lo conoscevo, ma poi mi sono studiato un po' la storia produttiva. È vero anche che avevano bisogno di un film da buttare tra una grossa uscita e un'altra per riempire le sale in un certo periodo e sono stati dati un bel po' di soldi, tanti soldi per l'epoca, 60 milioni, per fare un film a lui, che era una giovane promessa, e tanta libertà, però anche pochissimo tempo per quelli che sono i tempi produttivi dell'epoca, almeno così è scritto dove mi sono documentato. Nel film ci sono dei begli attori, in effetti, c'è Lawrence Fishburne, che è il Morpheus di Matrix, diciamo uno dei due attori forti della pellice, quelli che danno veramente carattere. L'altro è Sam Neill, che praticamente lo conosciamo tutti, ognuno ha un film preferito con Sam Neill. Io ovviamente cito tre film horror per farvelo ricordare, uno è Possession, chiaramente, il seme della follia, e Omen, lo cito soltanto perché ho fatto comunque una recensione di tutta la trilogia di Omen, quindi trilogia che in realtà c'è anche un quarto film, che è un film tipo, comunque c'è lui nel terzo capitolo di Omen, che interpreta proprio Damien da adulto, e comunque vabbè, Sam Neill è veramente un attore che ha una grandissima personalità proprio, cioè ha veramente una grande potenza, lo metti in un film, cazzo c'è lui, c'è tanta roba, grande classe, grande personalità, veramente. Di che cosa parla? Di che cosa parla questo film? Siamo nel 2047, cioè in realtà non manca molto, e viene inventata una nave che riesce a viaggiare alla velocità della luce, cioè a raggiungere posti lontanissimi, in un batter d'occhio, ma si perdono le tracce di questa nave, cioè a questo punto, ok, viaggia alla velocità della luce, però non si sa più dove cazzo è. Viene mandata una nave di soccorso, con le stesse caratteristiche, un gruppo di militari e un dottore, che è il dottore che ha creato questa tecnologia. La cosa secondo me che affascina di Event Horizon è proprio il fatto che vengono messe in campo delle teorie fisiche, in realtà reali, e spiegate in un modo abbastanza chiaro, e questo arriva allo spettatore. Lo spettatore è affascinato da queste teorie, che poi chiaramente sono parte di alcune teorie, ma sono ovviamente poi a un certo punto subentra la fantasia, perché se fossero tutto così applicabile, noi già lo faremmo di viaggiare alla velocità della luce, che poi non è proprio viaggiare alla velocità della luce, ma è la capacità di attraversare la linea temporale in modo da accorciare lo spazio tra due luoghi. È una cosa simpatica, che secondo me ha molto affascinato chiunque, da chi non capisce una sega, a chi quelle teorie magari le ha studiate anche a scuola, e magari ci trova anche dei difetti, come sono state esposte. Io chiaramente non essendo esperto, non lo posso sapere. Questa nave di salvataggio alla fine raggiunge, ovviamente raggiungerà la Event Horizon, e ci sono delle caratteristiche in questo film che rendono il film abbastanza appassionante, anche se appunto, leggevo in chat che qualcuno faceva notare, l'esposizione proprio della trama ha qualche difetto, qualche difetto che la rendono un po' stramba, un po' zoppicante stramba. Nonostante ciò, nonostante ciò, cazzo oggi siamo qua a parlare di questo film, e tutti mi chiedono, ah Gons, parlerai di Event Horizon, a me è piaciuto un sacco, cioè nonostante tutto, questo film, oggi piace un casino, piace un casino, e la visione in effetti, cioè da parte mia è consigliata, perché è divertente, e ci sono delle ragioni per cui, in realtà il film ha della qualità dentro, ed è interessante, e ci sono delle ragioni per cui, comunque è un film criticabile, qualitativamente, a cominciare dal fatto che, appunto, la trama non è sempre perfetta, perché è stata fortemente tagliata, ci sono, il film doveva durare molto di più, e sono stati tagliati tantissimi pezzi, con dei passaggi di trama importanti, quindi, questo ha reso molto difficile, il montaggio originale, purtroppo però, oltretutto, orco zio che spavento, porca puttana, porca puttana che spavento, vi giuro, ero concentratissimo, grazie mille Gabo Gabo, per il ride, benvenuti, sto facendo la recensione, di Event Horizon, Event Horizon, chiedo scusa, grazie al giulo, chiedo scusa, se non vi, se non vi saluto, tutti lo faccio alla fine della recensione, perché se no mi perdo, se rimanete, mettete il follow, o qualunque cosa, poi a fine recensione, si parla di qualche minuto, poi sono da voi, e leggo anche i vostri commenti, riguardo a questo film, grazie mille Eliose, grazie per i 100 bit, allora, c'è da dire, che oltre appunto a questo grosso taglio, questo grosso taglio di contenuti, di racconto, che ovviamente noi non lo possiamo sapere, se non andiamo a documentarci, sulla produzione di questo film, sono stati date anche, solo quattro settimane, rispetto alle sei previste per il montaggio, quindi maggiore pressione, diciamo che in generale, i tempi produttivi di questo film, sono stati molto accorciati, quindi gli si è chiesto di, tirar fuori il meglio che poteva, in meno tempo di quello che era previsto, quindi lui era giovane, era una promessa, gli è stata data fiducia, però gli è stato anche detto, ok, però visto che ti diamo tutto questo, tu però ce lo caghi fuori, in poco tempo questo film, e quindi sicuramente questo, in qualche maniera, ha influito sulla qualità. Cosa succede, però, che il film continua a funzionare, secondo me, perché loro arrivano sull'Event Horizon, l'Event Horizon ha delle caratteristiche particolari, che non vi dico, e ci sarà una situazione, per cui loro saranno costretti, a fare delle scelte drastiche, inquietanti, che potrebbero, non farli più tornare indietro, e avranno un altro fattore importante, che è la mancanza comunque di risorse, di ossigeno, che renderà tutta la trama, comunque molto più concitata, cioè avremo l'ansia, ancora più ansia di quello che accadrà, perché comunque il tempo è poco, le scelte da fare sono importanti, importanti per l'umanità, ma anche per loro, per la loro sopravvivenza, di questo appunto, gruppo di soccorritori, e quindi secondo me, comunque funziona il film, tutto è scoprire che cosa c'è sulla nave, mi spiace dirlo, ma io un po' devo spoilerare, cioè non vi spoilererò chiaramente, come finisce il film, però vi devo spoilerare, qual è il fulcro, perché sennò parliamo del niente, quindi da questo punto in poi, potete decidere, se comunque decidete di avere svelato un pezzo, oppure spegnere la live, e andare da un'altra parte, purtroppo lo devo fare, perché non sempre si può, la cosa interessantissima di questo film, è che il viaggio tramite i buchi neri, quindi la possibilità di viaggiare da un punto all'altro, dell'universo, appunto accorciando questa linea temporale, permette all'horizon di arrivare in un luogo non ben definito, che però noi sappiamo benissimo essere l'inferno, e questo è il motivo unico, assoluto, ovviamente insieme ad alcune questioni sceniche molto belle, che troviamo dentro, però è l'unico veramente elemento che spiega il successo di questo film, per questa ragione, io lo associo parecchio a Martyrs, non perché abbiano la stessa storia, ma fanno leva sulla stessa cosa, la grandissima curiosità delle persone riguardo alla vita dopo la morte, cioè che cosa c'è dopo la morte, che cosa ci accade, è una domanda a cui noi non cerchiamo la risposta tutti i giorni, perché andiamo a lavorare, ci laviamo, facciamo cose, stremmiamo, però nella nostra testa c'è sempre quella cazzo di domanda, e cerchiamo sempre di non pensarci, perché poi ci può anche scatenare ansia, paura della morte, tristezza, però è comunque un cazzo di pallino che noi abbiamo, in Martyrs c'è una di Pascal Lagier, c'è la ricerca della verità sul post-morte, cioè cosa accade dopo la morte, e alla fine il film strizzerà l'occhio allo spettatore, lo spettatore avrà un fortissimo coinvolgimento, in questo senso, perché a quel punto sentirà la fascinazione del fatto che qualcosa c'è, qualcosa di talmente spaventoso, o talmente da portare, una delle protagoniste, scusate lo spoiler per Martyrs, tappatevi le orecchie per un secondo, a spararsi, direttamente a spararsi, quindi può essere qualcosa di bellissimo, qualcosa di bruttissimo, e secondo me anche Event Horizon, che comunque è un film decisamente inferiore a Martyrs, dando uno spazio fisico, quindi dicendo, ok, io ci posso arrivare, magari sta anni, luce, chissà dove sta, però io grazie a questa tecnologia, posso andare da un punto all'altro dell'universo, dando uno spazio fisico all'inferno, o a qualcosa che appunto noi definiamo tale, rende molto reale il concetto di vita dopo la morte, quindi inferno e paradiso, quindi è veramente molto affascinante questa cosa, e oltretutto ci saranno delle immagini flash, delle immagini montate molto velocemente, per cui per la lavorazione ci è voluto tantissimo per realizzarle, delle immagini flash, fichissime, ultra horror, con gente squartata, legata con fil di ferro, robe veramente cose meravigliose, per chi ama l'horror, un incubo, poche volte ho visto una scena infernale realizzata così bene, e il film, che è stato tacciato di essere molto scopiazzone, e molto anche banale, standard nella sua rappresentazione, perché comunque sembra un misto tra Alien, e altri film di fantascienza dell'epoca, è stato ovviamente associato da tutti, anche da me, insomma vedendolo, è stato associato a Eraser, Eraser di Clive Barker, la cosa curiosa però, che se uno va un attimo a studiarsi appunto, come accadono le cose, scopriamo che Clive Barker, è stato assunto come consulente per questo film, quindi c'è un grave errore, nel considerare un difetto, questa somiglianza con Clive Barker, perché in realtà c'è una firma qua dentro, c'è un uomo grandissimo, che ci ha messo del suo, questo film si è impreziosito parecchio, ma agli occhi del pubblico ignaro, e dei critici ignari, almeno quelli che non lo sapevano, questo sembra un plagio mostruoso, sembra una scopiazzatura, in realtà no, in realtà è, mi serve qualcuno che sape rappresentare l'inferno come si deve, qualcosa di tremendamente spaventoso, bam, arriva Clive Barker, qua ci mettiamo l'applauso, quindi, tantissima roba per questo inferno, appunto che cazzo, cioè è uguale alle cose che faceva lui, e ci sta benissimo, e rende veramente bello il film, lo rende molto bello, anche se appunto il film poi si porta dietro dei difetti, che adesso ne parliamo, idea anche molto intelligente, che questo inferno venga visto pochissimo, cioè che siano proprio dei flash, dei frame, perché è giusto che lo spettatore ci metta anche del suo, quindi che ci, che li metta insieme quei pezzi, e immagini anche di peggio, quindi insomma il film poi non è andato bene, perché comunque i suoi difetti ce li ha, è costato 60 milioni di dollari, e ne ha incassati, almeno da quanto dice Wikipedia 47, io ho visto anche altre fonti, dicevano 24, ma secondo me alla lunga è più giusto Wikipedia, perché mi sembra un po' strano, fu recensito malissimo dai critici, e andò malissimo al cinema, anche per via di questo fatto, fatto che assomigliava molto agli alien, ai vari film di fantascienza eccetera, il noto critico Robert Ebert, premio Pulitz, di cui avevamo parlato anche qualche live fa, lo ha recensito male, non vi sto a dire cosa è, perché è comprensibile, nel corso degli anni tuttavia diventa un cult, come avrete notato anche con voi stessi, perché a molti di voi piace, vorrei lasciare la parte finale sui difetti, poi vi dico cosa c'è nell'edizione, il film effettivamente è un po' banalotto, nella sua impostazione iniziale, c'è proprio questo gruppo di astronauti, sembra uscito da Alien, e questo è molto stucchevole, soprattutto se Alien l'hai visto da poco, e dici che cazzo è la coppia, anche le scenografie sono molto simili, ci sono anche delle persone, adesso non mi ricordo chi, che hanno lavorato ad Alien, il direttore della fotografia, che tra l'altro è molto bravo, questo film la fotografia è molto bella secondo me, il direttore della fotografia ha lavorato anche in Aliens 2 per esempio, ci sono anche altri che hanno lavorato, penso lo scenografo ha lavorato in Alien, comunque la recitazione, diciamo a parte quella di Sam Neill, e di Fishburne, è insomma un po' così, un po' piatta, i dialoghi sono un po' sciocchi, un po' stupidi, ci sono delle parti nonsense, dove appunto la storia si focalizza su certi personaggi, che non ha senso, ma questo è anche dovuto un po' appunto al montaggio finale, che fa un po' schifo secondo me, però è vero anche che, adesso loro hanno dovuto tagliare tantissimo materiale, però è vero anche che non puoi girare come se dovessi fare un film di 4 ore, e poi lamentarti che ti hanno fatto accorciare il film, non si capisce un cazzo, dovresti pensarci prima, per me è davvero un bel film horror fantascientifico, è vero non è un capolavoro, perché Paul Anderson non è un autore molto sofisticato, cioè non è sofisticato ma è molto bravo, molto bravo a gusto, anche i Resident Evil comunque hanno scene molto molto fighe, dal punto di vista delle riprese, dei movimenti di macchina, in questo è bravissimo, però insomma il tutto risulta abbastanza stucchevole, per fortuna a un certo punto il film vira, diventa un incubo, un incubo anche con delle scene un po' trash sul finale, diventa un incubo alla Eraser, e migliora decisamente, cioè a quel punto il film migliora, e quindi è un film, questo è un film che ha due facce, ha una parte tecnica molto bella, una parte tecnica non bella, ha una storia un po' banale, è una parte di storia eccezionale, e quindi alla fine sul lungo termine vince, diventa un cult, ma anche solo, guardate anche solo queste scene qua, che c'è nella foto, è pieno zeppo di scene bellissime, per non parlare dell'epica, per quanto possa sembrare ridicola, scena in cui uno dell'equipaggio, viene catapultato fuori dall'astronave, senza tuta, senza niente, e il capitano della nave, con un balzo, lui invece la tuta ce l'ha, lo ributta dentro, insieme cascano dentro, una scena bellissima, nello spazio, impossibile che, nella realtà, che si possa realizzare una cosa del genere, però nel cinema ci può stare, una cazzata così insomma, l'edizione spacca, spacca veramente tanto, lo dicevo l'altro giorno, ci sono due documenti, cioè praticamente c'è un documentario, di un'ora e mezza, e un altro video, con dozzine di backstage, che anche quello dura più di un'ora, una roba del genere, i segreti del film, con il commento del regista, il commento al film, del regista e del produttore, ci sono interviste a nastro, è veramente tantissima roba, per cui chi ama questo film, qui trova un'edizione, che sembra un'edizione semplice, perché comunque è un Amarai, con slipcase semplicissimo, però ha veramente tanti extra, ed è una cosa abbastanza inconsueta, quindi è consigliatissima, questo è fico raga, il nucleo della nave è molto bello, tutte le scenografie sono molto belle, anche se appunto le tute, le astronave, sono abbastanza banalotte, cioè sono quelle, sono quasi scopiazzate da Alien, io vorrei vedere i contenuti speciali, l'unica è con persi edizione, trovo fantastica anche la scenografia, della stanza con la sfera portale, è stupenda, ma già lì secondo me, c'è l'intervento di Krav Barker, perché nella stanza, poi in alcune quadrature si vede meglio, ci sono spuntoni, che uno si chiede come mai, sembrano fatti apposta, per infilzare la gente, ci sono cose orrorifiche, un po' già dentro quella stanza lì, sì è un film che si poggia, su delle idee che esistono già, ma poi le mette insieme, le mette insieme bene, il collegamento con Slithers, è semplicemente che Slithers è un film, che è un puzzle di roba presa in giro, cioè praticamente non ha inventato nulla, James Gunn in quel film, cioè c'è di tutto, dall'invasione degli ultracorpi, a zombie, scusate, alla notte dei morti viventi, cioè se vai a guardare Slithers, in Slithers c'è tutto il cinema horror, fantascientifico, precedente a quel film, il più bello, messo tutto insieme, in un film che funziona, che ha una sua identità, ecco secondo me, Event Horizon ha lo stesso, fa la stessa cosa, prende un po' di Clive Barker, prende un po' di Alien, prende un po' di qua e di là, e crea un film, certo, qualitativamente meno bello, secondo me di Slithers, e chiaramente meno bello di Arise, meno bello di Alien, però comunque è un film che ha una sua identità, cioè... preset, spessore, aunts, nel video, nots, più, in un film, però è un film, di Tatt, ieri, a lei ha una absurda, dei soldi, e va a risi, azzericare, in un film, in un film, dove è un film, in un film, azzericare,